eccoci qui come state un saluto a tutti ben ritrovati di nuovo buona giornata da milanello la casa dei milanissi su youtube come fa come definire questo momento ragazzi del milan della storia del milan e del rapporto tra i tifosi e la squadra fatemi la vostra analisi sono molto curioso e intrigato dalle vostre risposte qui sotto nei commenti mi raccomando sempre con civiltà e con rispetto è un momento particolare un momento molto strano lasciate un bel like mi raccomando se amate il milan sempre comunque grandi like tanti like iscrivetevi qui attivate la campanella qui sotto c'è anche il link del mio canale personale andrà lungoni calcio al quale vi invito a iscrivervi numerosissimi un canale di breaking news e quindi vi aspetto vi ricordo anche che c'è lo store di milanello con la felpa di 125 anni ragazzi da indossare ovviamente anche per la festa di milanello questa è la versione nera poi c'è la versione rossa c'è la versione grigia con i 125 e mezzo e c'è la versione bianca io ho preso quella grigia che poi nei prossimi giorni vi mostrerò se venite poi alla festa di milanello indossatela mi raccomando ed è un ottimo dress code la felpa dei 125 del milan anche perché sarà più o meno in quei giorni lì ci saluteremo per il natale faremo un bilancio e parleremo insomma anche di tutto quello che sta accadendo come definire nella vostra vita di tifosi del milan questo momento storico basta una parola però commentate e ditemi qual è il vostro momento è un momento strano andrebbe fatto un'analisi anche approfondita sotto vari punti di vista intanto prima di partire diamo subito una notizia molto importante cioè partiamo così siamo già partiti che riguarda il tema stadio che quella una possibile speranza per provare a cambiare un po di cose che non vanno bene in primis la proprietà allora sala sindaco di milano ha annunciato la valutazione dell'agenzia delle entrate è arrivata cioè l'agenzia delle entrate doveva valutare il prezzo di san siro e della zona circostanze dove milan inter vorrebbero farlo stadio è arrivata alla sindaco lui dice non posso svelare la cifra in questo momento gli uffici la stanno esaminando prosegue noi abbiamo fatto quello che la società ci hanno chiesto di fare abbiamo promosso un tavolo che mi pare sia stato fruttuoso con la soprintendenza e dato in carico formale all'agenzia delle entrate inizio agosto ora noi non abbiamo altro da fare in questo momento se i club attraverso formale manifestazioni di interesse verso san siro e le aree si fanno avanti allora continueremo a lavorare io mi auguro che in termina a questo punto avendo fatto dei passi in avanti molto decisi facciano una manifestazione di interesse ma fino ad allora non abbiamo altro da fare abbiamo impiegato anche molto tempo dei nostri uffici per questa questione che per me non è la primaria a milano ma certamente delicata le scuote tanto interesse dell'opinione pubblica e dei medi e quindi per questo va gestita ma sempre un po superiore lui no lo snob sul tema stadio radical chic detto questo effettivamente il tema con la soprintendenza è stato risolto sulla questione di san siro secondo anello ora valutazione è stata fatta che non è sindacabile nel senso che quello è il prezzo prendere o lasciare non si può trattare si parlava di una cifra tra i 175 200 milioni di euro vedremo se sarà confermata nelle prossime ore e ora ragazzi siamo arrivati in questo caso su questo tavolo al momento a un primo momento cruciale manifestazione di interesse che deve arrivare ma il milan vuole mettere comunque un asterisco legato a san donato per tenersi aperta con la strada l'inter invece non la vorrebbe quindi c'è ancora un po di dibattito interno ai club ma è arrivata la valutazione e sono molto curioso di capire di che cifra stiamo parlando e se milan inter presenteranno effettivamente quella che la manifestazione di interesse che per sala è la svolta sarebbe il momento di svolta come ha detto recentemente il momento di svolta invece per quanto riguarda il milan squadra campo continua a non vederlo sono molto 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 d'accordo con quello che ha raccontato su youtube il mio direttore che dice è mancata su ieri non su tutte le cose intanto lui dice è mancata la risposta di leao entra e fa il leao azione travolgente ma ho il mangiato un paio di tiri con poca attenzione il suo recupero non c'è stato la terapia fonseca al momento non funziona sono d'accordo e leao non reagisce sono d'accordo non sembra determinato e voglioso forse ritieni di non dover dimostrare nulla a nessuno questo crea un problema risolto ma il milan non è solo leao preoccupa anche che i tifosi si stiano raffreddando attorno al milan quello che dicevo questa mattina ci tolgono l'emozione una vittoria che non ci emoziona perché hai sfiducia per tutto quello che c'è lì dalla testa al basso ci tolgono anche questa cosa qua mi sono confrontato anche oggi nel nostro gruppo di milanello e anche gli altri compagni di tifo dicono ci hanno appiattito pure l'emozione ed è una cosa terribile ripeto è una cosa terribile voglio capire se soltanto il nostro punto di vista o anche il vostro per questo vi dicevo che momento è per me è un momento difficile il milan è sempre qui ovviamente ma non mi riconosco in questa proprietà in questa società nella dirigenza nel atore e fai fatica anche nella squadra in generale no proseguendo dice io non ho ancora capito ancora appunto ocaforo e ciucchezze che margine di miglioramento abbiano l'interrogativo più importante quello su morata ha una media gol drammatica per un appunto un gol di 360 minuti lotta come un cane ma arriva troppo stanco c'è una crisi dell'attacco morata è stato preso per fare almeno qua quanto girù che ha lasciato con 17 gol non ci siamo e mina ha bisogno di una punta che segni sennò crea un problema alla squadra i tifosi si stanno raffreddando ed è un problema però so che cardinale non deve sottovalutare è un fatto tragico anche per una proprietà che ovviamente deve basare il proprio successo dal punto di vista economico sulla passione dei tifosi questo è mentre ragazzi ecco il tema leao sul tema leao sul tema leao ragazzi allora ieri la farra fa leao entra valutazione so fa scor 7.1 però da algoritmo fa 27 minuti gli ho dato 5 e mezzo un tiro in porta due fuori quattro dribbling su quattro riusciti molto bene 16 tocchi 83% per cento passaggi riusciti un passaggio chiave quello a teo in profondità 6 duelli vinti a terra uno aereo vinto su uno numeri non sono affatto male anzi due palle perse due falli subiti crea e distrugge va detto che poi lui ragazzi ha un limite grosso che è quello della conclusione a rete cioè arrivi lì devi buttare giù la porta e sbagli quando arriva davanti al portiere del monza fa questo scavetto qua che non gli riesce neanche cioè lui vuole fare lo scavetto ma un attaccante di serie a di livello che non riesce a fare lo scavetto è arrivato un po stanco ci può essere la scusante azione dopo poi da buona posizione calcia alto ma molto non è che tanto così sovrattraversa alto molto alto gli manca la conclusione gli manca il tiro non è una cosa che scopro oggi è una cosa che confermo personalmente oggi e che è evidente da tempo lo stesso cappello aveva detto deve fare come devi fare come te ibra deve lavorare su questo italo gabbiate aveva fatto un lavoro pazzesco su ibra che è migliorato tantissimo poi con il tiro con la conclusione e con i gol chiedo scusa di nuovo il terzo in arrivo forse mi sa di sì forse sì forse no detto questo quel lavoro lì o non lo sta facendo forse che non lo fa fare o lui non lo sta seguendo non sta migliorando in quello che per un attaccante deve essere il gesto base cioè il tiro la conclusione senza un buon tiro non arrivi a vincere a fare gol non ci arrivi però poi c'è dell'altro c'è dell'altro perché in conferenza stampa per me ci sono pensieri così in libertà proprio intanto fofanà dice non è stato un buon milan io sono d'accordo con fofanà non è stato un buon milan questo è sentore di chi ha sceso in campo poi fossi che deve tirare acqua al suo mulino per carità però dice non sono d'accordo con morata scusate con con fofanà lui dice non sono d'accordo con fofanà abbiamo avuto momenti importanti durante la partita penso che avremmo meritato di fare più gol per quanto fatto nella ripresa sì dimentichi che nella partita nel primo tempo potevi prenderne un paio e poi ancora dice spiegando il percorso di crescita comunque il monza è una squadra di qualità monza quest'anno fa fatica a salvarsi io ho visto tante cose positive in fase offensiva come la costruzione della manovra e altre situazioni interessanti cioè uno che dice ma che cosa ha visto di crescita costruzione manovra e altre situazioni interessanti cosa situazioni interessanti è dici tutto e dici niente situazioni interessanti che che significa io vedo una squadra che gioca bene uomo su uomo e offensivamente ha fatto bene difensivamente abbiamo avuto qualche momento no parole di libertà per quanto mi riguarda ma poi c'è una frase che secondo me un tecnico non deve dire lo può dire se sei una squadra di provincia la posta in paglio magari passa ma se lo dici in una grande squadra magari ti senti tu più fiero di te stesso ma crei dei danni perché lui dice non c'è un caso lea o lea è un calciatore che per una scelta dell'allenatore ha cominciato in panchina come con l'off to seek come con musà io devo avere un caso perché un giocatore va in panchina questo deve essere normale deve essere normale non c'è un caso non c'è conflitto un'opzione dell'allenatore questa è la frase gli viene fatto presente sì però mister lea non è l'off to seek non è musà e lui dice per voi per voi per me sono gli stessi per me lea lo stesso come l'off to seek musà è lo stesso lo status non gioca non va in campo io scelgo in funzione di quello che ha bisogno la squadra che è una frase condivisibile c'è ovvio è scontato che tu devi dire così e non hai torto se dici così però quando paragoni lea o musà in linea teorica generale benissimo in linea pratica secondo me stai mettendo ulteriore peso sulla testa di leao non stai aiutando leao stai mettendo ulteriore carico emotivo ma negativo nel caso leao che è un caso leao perché musà non è leao io non ho mai sentito dire in zaghi dire lautaro martinez è come correa se lui dice una cosa del genere lautaro martinez si arrabbia e non mette più l'anima per l'allenatore dicendo così secondo me leao lo perdi ulteriormente se l'obiettivo è perdere leao definitivamente avanti per questa strada per me è autolesiodismo se invece l'obiettivo è recuperare leao queste per me sono provocazioni poi non è van basten non è gullit non è franco baresi non è maldini ma è evidente che sia uno se non il giocatore più forte del milan e per me così diventa accanimento anche a livello di dichiarazioni perché leao comunque nel milan è qui da cinque anni forse sei non ricordo con la memoria faccio un po fatica ha fatto vincere uno scudetto al milan non può essere paragonabile a musà non può essere paragonabile a musà che ha quattro anni in meno e qui da un anno non ha fatto vedere ancora nulla se tu lo fai perché vuoi mettere un dito nell'occhio leao e non è così che recuperi leao e allora sospetto viene ulteriormente ma tu non vuoi recuperare leao vuoi farti vedere come quello integerrimo e vuoi spingerlo all'uscita magari d'accordo con la società questo è questo è per quanto mi riguarda e quando parla mi sembra che lui goda su questa cosa qui guardatevi il video sembra che lo faccia in maniera fiera sembra che sia un nervo scoperto sembra che vuole andare a calcare la mano e se la calca è soddisfatto io percepisco questo percepisco questo riconoscendo che leao è dei limiti l'ho detto non puoi tirare così non puoi non è non essere in grado di tirare in serie a a quei livelli e sbagliare spesso la conclusione l'impegno non c'è lo dico sempre però è questa cosa qui a me sembra che sia stata l'ennesima provocazione tant'è che i giornalisti che dicono ma scusi non può paragonarlo per me è irricevibile per me irricevibile su rafaleao e però qui nessuno interviene lui va avanti per la sua strada che per me non sta portando assolutamente benefici ocafor ieri ha giocato male male questo è poi non voglio fare un discorso ocafor leao però è evidente che sia così e lui sta dimostrando accanimento nei confronti di leao per quanto mi riguarda aperto a pensieri diversi mi raccomando però rispettando anche il parere altrui cosa fondamentale ricordando che parliamo oltretutto di calcio ditemi che ne pensate commentate numerosi lasciate un bel like iscrivetevi qui attivate la campanella ci vediamo più tardi per altri giornamenti sicuramente sul mio canale personale andrò con i calcio vi invito andare a vedere anche lo store di milanello e tra un mesetto circa ci vediamo per la festa con la felpa un abbraccio